Appena una parola doppia, cioè se vuoi la parola doppia, no, queste sono quelle, no, queste sono quelle. Grazie! 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 Caroni, noi siamo dentro le linee, siamo costituite da tanti battoni che si chiamano api o api. Io sono secca, la mistecca, possono cucinarmi in qualsiasi modo, sulla griglia, al porno e al vero. Ma non ti ho chiesto come vuoi essere cucinata, ma chi sei? Sono la carne, sono concletta di tutti gli amato acidi, cioè i battoni che formano le proteine come me, sono molto importanti con il nostro organismo e distribuiscono un po' di battoni a tutti. E vi spero un segreto, un termo molto termo, un elemento speciale. Ma non mi dico! Sempre! È la più poderosa! qui, le davanti alla protezione. di doda o di doda. E qui! E qui. Direi che questo giorno è commerciale! Chi sono За mobilize! Par continentalmente! E io gli amata mia cara di rapporti. tenha la guida grande e sempre rispetto. sono molto importanti, costruiamo gli uscoli, le ossa quindi con te lo stico, i telefoni e i fili e quindi perché avete una frequenza diversa? si vero, e infatti non capisco perché? 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 sono chietta, la pistetta, tutti li vogliono mangiare non è vero bambini? siiii ma che? sei grasso, lei c'è mi adorano, mi adorano anche se a dire la verità per far bene alla salute le persone mi dovrebbero mangiare solo una volta alla settimana mentre la cucina, carne bianca, si può consumare due volte a settimana e perché vuoi essere consumata solo una volta a settimana? perché in verità se consumate in eccesso sono dannose per la salute da uso malattia al cuore, ai polmoni, ai regni, allo stomaco, al cervello e tante infezioni perché sono ricche alle grassi non buone, non buono e giovalina invece perché vuoi essere consumato dalle 2 alle 3 volte a settimana? perché sono ricco di sostanze non sanitarie e sono molto buone 政ità e sostanze non sanitarie e non sono ricco di sostanza e non sono ricco di sostanza eccoci qua siamo molte bramini siamo tutti i distinti belle ossa in banco alto aggiungiamo la col mare ma stai attento a quali di noi dovrai mangiare La carne rossa è davvero gostosa, ma non esagerare, solo una volta a settimana la dovrai mangiare, e senza luce vorrai restare, una o tre volte a settimana il pesce dovrai mangiare, e voi quindi vi aspettate, la scelta salutare, ricordate! Grazie!